Ha votato? Ha votato. Dal Moro no. Non ha votato? Ecco, è riuscito? Va bene, mi pare che ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 321, contrari nessuno, la Camera approva. Allora, adesso devo chiedere il parere sull'emendamento 2.20. Chiederei quindi al relatore Bordo di darmi il parere. Sì, 2.20, Presidente. Parere contrario. Grazie. Sottosegretario Cozzi. Contrario. Grazie. C'è anche un parere contrario di quinta commissione. Se nessuno... Con Bickler. Allora. Con Bickler. Ah, sì, prego, deputato con Bickler. Grazie, Presidente. Qui noi ci troviamo in materia di importazione di prodotti petroliferi finiti, liquidi, da Paesi terzi all'Unione Europea. Con questo articolo, qui, se lo approviamo, approviamo una norma europea molto positiva. È molto europea. È una norma volta a tutelare non solo l'ambiente, in Paesi terzi, dove si produce il petrolio, ma anche la sicurezza e la salute degli operai, dei lavoratori in quei Paesi dai quali noi importiamo. ed è la nostra... Cioè, il nostro emendamento mira a sopprimere questo articolo, perché è un articolo, diciamo, in una legge europea poco europeo. Grazie. Quindi, SEL, sì, cioè, chiede la soppressione di questo articolo 2. Allora, siccome appunto questo emendamento è soppressivo, io...